We'll make it happen, we'll turn it around, yes we were going to make a story We're going to make a story Mio più amiche bentornate alla mia discarica Oggi siamo qui con un nuovissimo video in cui andremo a fare un giochino che andava nel 2015-16 Non lo so, mi è venuto in mente a caso Ovvero, vero ho photoshappato Ma non sarò da solo oggi, infatti ho il piacere di presentarvi Mio madre! Confermo, sono la mamma Non sono adottato, raga Quindi cosa faremo oggi con la mia bellissima mammina? Faremo appunto a cercare di riconoscere se una foto che ci viene posta davanti è vera oppure photoshoppata Questo è proprio il sito di Photoshop che ha realizzato questo giochino per i 25 anni di Photoshop Che saranno stati almeno 6-7 anni fa Però meglio tardi che mai Quindi, cominciamo subito Questa è la prima foto Secondo me è photoshoppata perché non vedo tiranti È vero che possono essere stati tolti in post Però Mi sembra proprio come se lei fosse in un punto diverso e fosse stata appiccicata Sì, secondo me Condivido Andiamo su Photoshop Giusta! Dai! Continuiamo Vai Allora, abbiamo una donzella che si fa un giretto per i mari Potrebbe anche essere vera Potrebbe, ma Che si fa le foto nell'oceano Io direi che è photoshoppata Dici che è photoshoppata? Sì, secondo me sì Va bene, ci fidiamo di mamma E infatti era reale Ma proseguiamo Allora, qui c'è una simmetria particolarmente particolare Degli alberi Ma secondo me sono troppo simmetrici Cioè, è stato proprio fatto l'effetto caleidoscopico, secondo me Sì Quindi secondo me è photoshoppata Sì Ok, era photoshoppata Prossima Un uomo che si sta scongelando tutto Sta morendo di piscia addosso Madonna mia Con un cane Potrebbe anche essere vera Un po' di make-up Sì, però Il cane sarebbe morto Eh sì In quello stato Dai, mi fido di te Mi fido di real? Sì Ed è real Grande L'uomo appeso alle cassette da frutta? Cos'è? Questo io dico che è vera Anche se non è vera Io queste le ho viste in un video degli Ainub Un sacco di tempo fa Ma ovviamente non mi ricordo Cioè, mi ricordo la foto Ma non ricordo assolutamente se fosse vera o no Non so perché Ho la sensazione che sia vera Andiamo su real È real Ok, che cos'è? Tipo le scalette della piscina in acqua Ma non ci vedo niente di male Ma secondo me È reale Sì Proviamo, proviamo Anche se un po' di dubbio ce l'ho Però dai Perché, cioè, se almeno non avrebbe senso photoshopare una cosa del genere in acqua No, è giusto un po' per i colori Ma dai È reale Vabbè, è un po' di post Cioè, un po' di colorazione modificata Penso sia incluso in real Sì Dai Proviamo Proviamo Ed è real Ok, questa è molto molto bella C'è un uomo con una torcia praticamente Su quel Cuzzolo della montagna Esatto Però la montagna Sembra un uomo Quindi secondo me hanno photoshoppato solo la montagna Sì, sì, mi stava senza dubbio Photoshoppata Sì, io dico di sì Dove potrebbe anche essere real Però vediamo Infatti era real No L'uomo che vola con i palloncini Assolutamente photoshoppato Perché dieci palloncini non ce la fanno a sollevare un cristiano No Non vedo altro sotto Sì, no, no, no Sì, sì Confermo Sì Ma siamo dei kings Vai No Questo è body painting Che non ho visto le persone che si mettono davanti ai paesaggi Sì, ma è vero Adesso mi è venuta l'immagine quando l'hai pronunciato Quindi è reale Sì Sì Il body painting Uno scogliattolo che solleva un peso Ma che dire Però il peso potrebbe semplicemente essere una sticella messa davanti al scogliattolo Appoggiata magari su dei mattoni Esatto Quindi dai vogliamo giocarcela Secondo me può essere real Sì A meno che non c'era solo la barretta e gli hanno photoshoppato i pesi Sono in dubbio però secondo me non c'è granché da photoshoppare una cosa del genere Dai, dai, giochiamocela Sì Ed è real Real Scacchio Mamma mia quanti capelli Secondo me photoshoppata semplicemente perché un effetto così ai capelli si può avere sott'acqua Bravissimo Oppure lei è stesa Invece qui non è stesa in piedi Sì, no, 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 infatti Quindi penso sia photoshoppata Sì, 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 senza un po' di dubbio Vai Eh, dai Prossima immagine Allora Sta facendo un backflip davanti al sole Questa è vera Real Cioè non vedo niente di male Sì, 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 secondo me sì No Caspita Era talmente facile che ci hanno fregato Allora, qui c'è il simbolo di Adobe nella sabbia Allora, c'è chi si diverte a fare quei trattori nella sabbia Sì Però c'è proprio una texture ben precisa Questa è photoshoppata Dici photoshoppata? Proviamo Speriamo di non farti sbagliare ma... Ma era reale, cacchio No, un'altra volta Che pazienza Madonna, è stata fatta precisissima Sì Allora, una tartaruga che salta per prendere il frisbee in bocca Secondo me è finta perché i colori non mi soddisfano Anche la tartaruga che salta Ma salta la tartaruga? Non lo so Ma in realtà l'hanno messa su una rampa così La tartaruga stava così L'hanno... così L'hanno schiacciata? No, l'hanno fatta saltare con la... Con il tappetino E i frisbee così piccoli non esistono Vai Allora, bellissima questa Là c'è una barca su un laghetto, penso Potrebbe anche essere vera Cioè... Oddio, ci sono delle... Cioè, degli ambienti, delle... Sì, magari se è proprio... Sì, magari se è proprio... Se è proprio una secca... Secondo me può essere vera Sì, dai, giochiamocela Giochiamocela vera Sì, sì, sì Dai Allora... Allora... È tipo un'auto volante Che non c'è le ruote Sono molto sotto? Però... Eh no, io non le vedo Se vede solo l'ombra Solo l'ombra lineare del veicolo Sono mai photoshoppata Anche perché è ambientata In un modo che ti fa sembrare Degli anni sessanta È una macchina bruttia È più spaziale Che... Eh... Vai, dai Sono mai photoshoppata Ok, 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 easy Guarda quella Oddio Questa macchina la farò solo io, ragazzi Adesso ho capito bene pure che caspita Non mi capito Ma guarda tu Ma ho visto l'altro Invece può accadere Che si possa congiare Per caso l'ho detto Che te faceva schifo È vera Secondo me è vera Anche perché Il buio totale Nei miei ambienti Nei condali Sa Proviamo reale Sì No, era photoshoppata Cospita Allora, questo sta facendo Michael Jackson Su un ceppo Ah, può essere pure reale Magari un attimo dopo è cascato Però intanto la foto l'hanno fatta È, esatto Solo può essere reale Dai, proviamo Damma mia Oddio il cammello che si sdoppia Allora, aspetta Potrebbe... No, secondo me ce n'è uno precisamente dietro Però quante gambe ci sono? No, queste... Quattro No, sono le giuste Tre, quattro, cinque Sì Ci sono tutte le zampe Potrebbe essere reale Perché non costate cinque No, per me è questa E se è questa Però no, mi fido di te Non ti voglio... Ora tu l'hai detto Ora ti prendi la tua responsabilità Era reale Questo ha capasotto su un'altalena Cioè, se anche lui si è capovolto Comunque è impossibile che cielo e terra siano così mescolati Sì, infatti su questa ho i miei dubbi Nel senso la foto può anche essere rigirata E ci sta Sì Però Però No Se non è photoshoppata Yes Questa è reale È veritiera Sì Aspetta, come si è attaccato questo però? Non si può ingrandire Porca miseria No, vabbè Comunque ci hanno delle cinte Delle cose con cui si legano È tenuto coi denti, mi so I pazzi ci sono I pazzi, sì Per carità Vabbè, anche quando vedi Sì, questo Guinness dei primati Lo shoot record Quelle cose là Cioè, come lui può essere reale Sì Dai No È che gli hanno photoshoppato la color correction Allora, questo salta con il Il pupasù E il Come cacchio si chiama il sacco a pelo Però il problema Il pupasucchio Però il problema è che non lascia impronte Quindi o l'hanno lasciato cadere dall'alto Non lascia neanche Non c'è neanche ombra se è per questo Se non è photoshoppata Sì È arrivare Stiamo perdendo quota Dobbiamo recuperare Che paura E Che c'è di male questa? C'è una macchina in un campo con le balle? No, per me Non lo so Mi dà l'idea che non sia Reale? Non lo so Le balle dietro Sta macchina Forse avrei il bel lasciato I segni Come l'hanno catapultata Sta macchina Non lo so Dai Lascia a te questa volta Dai vediamo photoshoppato Vediamo Era photoshoppato Ho ragione Questa è proprio l'immagine standard Quando apri photoshop Quindi Poi che cacchio è? Un anemone? Sembra il muso di una scimmia Né un cane Che cos'è? Una scimmia Non va tutto a posto No Io le dico che è photoshoppata Ok dai È l'immagine standard di Adobe Porca miseria Questa è vera Questa ti ha tuffato però Cioè Ne ghiacciai? Sì Ma fa freddissimo C'è un paccio C'ha i calori E poi a capoccia sotto Guarda i piedi come stanno No 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 Photoshoppata Dici Non esiste un matto Che si lancia così Ma come non è? E ti fai da voglia E come ti hai detto A me è real Vai mi fido Però mi prendo le mie responsabilità Abbiamo finito? Era real Sì Ah era vero L'abbiamo sbagliato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 su 25 25 Vabbè dai 17 azzeccate non è Dai Ottima media Dunque amici Siamo giunti alla fine Di questa mirabolante avventura Cosa ne pensi? Che è andata benissimo Che sono stata contenta Di parteciparvi E che Tornerò Non è una minaccia Ma tornerò La donna tornerà La donna ha parlato Quindi niente raga Fatemi sapere se il video vi è piaciuto Fatemi sapere Quante voi ne avete indovinato Se avete avuto il piacere Di giocare con noi Vi invito ad iscrivervi Se non siete iscritti Al canale Commentate Commentate Attivate la campanella Fate il cacchio che vi pare Perché è casa vostra Detto ciò Io ringrazio Mia madre Per aver partecipato Tornerà Torneremo Torneranno tutti quanti E niente Ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao Ciao!